A margine di una straordinaria e coinvolgente settimana di tennis vissuta presso il Tennis Club Foggia, Corina Dentoni, che vedete nelle immagini, si è imposta ed ha vinto l'edizione 2017 dei campionati italiani femminili di tennis di seconda categoria, svoltisi sui campi in terra rossa del Tennis Club di Via del Mare e dotati di un monte premi di 10.000 euro. La ventottenne tennista toscana lucchese di Pietrasanta, classifica 2-1, è testa di serie numero 2 del seeding, ha superato in finale senza soverche difficoltà con il punteggio di 6-0-6-1 la bolognese Agnese Zucchini, classifica 2-3, partita con la testa di serie numero 5 e giunta in finale dopo aver eliminato a sorpresa la prima testa di serie Anna Flores. La Dentoni ha bissato in singolare il successo ottenuto nel giorno precedente nella finale di doppio, in coppia con la Varesia e Natascia Pilud su Alice Savoretti e Anna Flores per 6-3-6-3, doveroso rilevare la perfetta organizzazione del Tennis Club Foggia preseduto da Dominic Delisanti.